Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal quinto al ventunesimo secolo. L'apice del potere universale della Chiesa è riconducibile alla bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII, emessa il 18 novembre 1302. Il conflitto con i re di Francia, Filippo il Bello, spinge il pontefice a dichiarare in maniera solenne la sua supremazia su qualsiasi potere ordinato. Egli, esercitando un'autorità discesa direttamente da Dio attraverso l'Apostolo Pietro e i suoi successori, pretende la sottomissione di ogni sovranità civile al suo volere. Quello che segue è il testo della bolla come indicato dal professor Berardo Pio durante il corso di Civiltà del Basso Medioevo dell'Università di Bologna, anno accademico 2022-2023. La presentazione del corso e il testo della bolla sono disponibili nella descrizione. Per imperativo della fede noi siamo costretti a credere ed a ritenere che vi è una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica. E noi fermamente la crediamo e professiamo con semplicità. E non c'è né salvezza né remissione dei peccati fuori di lei, come lo sposo proclama nel Cantico. Una sola è la mia colomba, la mia perfetta, unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice. Essa rappresenta l'unico corpo mistico, il cui capo è Cristo e quello di Cristo è Dio e in esso c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Una sola, infatti, fu l'arca di Noè al tempo del diluvio che prefigurava l'unica chiesa. Ed era stata costruita da un solo braccio, ebbe un solo timoniere e un solo comandante, ossia Noè, e noi leggiamo che fuori di essa furono sterminati tutti gli esseri esistenti sulla terra. Questa chiesa noi veneriamo e questa sola, come dice il Signore per mezzo del profeta, libera, o Signore, la mia anima dalla lancia e dal furore del cane, l'unica mia. Egli pregava per l'anima, cioè per sé stesso, per la testa e il corpo nello stesso tempo, il quale corpo, precisamente, egli chiamava l'unica chiesa, a causa dell'unità dello sposo, della fede, dei sacramenti e della carità ecclesiale. Questa è quella veste senza cuciture del Signore, che non fu tagliata, ma data in sorte. Dunque la chiesa sola e unica ha un solo corpo, un solo capo, non due teste, come se fosse un mostro. Cristo, cioè, e Pietro, vicario di Cristo, e il successore di Pietro. Perché il Signore disse a Pietro, pasci le mie pecorelle. Le mie, egli disse, parlando in generale e non in particolare di queste o quelle, dal che si capisce che gliele affidò tutte. Se quindi i greci o altri dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, devono per forza confessare di non essere tra le pecorelle di Cristo. Perché il Signore dice in Giovanni che c'è un solo gregge e un solo e unico pastore. Proprio le parole del Vangelo ci insegnano che in questa chiesa e nella sua potestà ci sono due spade, cioè la spirituale e la temporale. Perché quando gli apostoli dissero, ecco qui due spade, che significa nella chiesa, dato che erano gli apostoli a parlare, il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro ha malamente interpretato le parole del Signore quando dice rimetti la tua spada nel fodero. Quindi ambe due sono nel potere della chiesa, la spada spirituale e quella materiale. Però quest'ultima deve essere esercitata in favore della chiesa, l'altra direttamente dalla chiesa, la prima dal sacerdote, l'altra dalle mani dei re e dei soldati, ma agli ordini e sotto il controllo del sacerdote. Poi è necessario che una spada sia sotto l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice non c'è potere che non venga da Dio e quei poteri che sono sono disposti da Dio, essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra e come inferiore non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. Poiché secondo San Dionigi è legge da Dio che l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al superiore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, secondo la legge dell'universo, ma le infime attraverso le intermedie e le inferiori attraverso le superiori. Che il potere spirituale supera indignità e nobiltà a tutti quelli terreni dobbiamo proclamarlo tanto più apertamente quanto lo spirituale eccelle sul temporale. Il che in vero noi possiamo chiaramente constatare con i nostri occhi dal versamento delle decime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'esercitare il governo sopra le medesime. Poiché la verità attesta che la potestà spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo, così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa. Ecco, oggi io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni e le altre cose che seguono. Se dunque il potere terreno devia, sarà giudicato dall'autorità spirituale. Se poi il potere spirituale inferiore degenera, sarà giudicato dal suo superiore. Ma se è quello spirituale supremo, potrà essere giudicato solamente da Dio e non dall'uomo. Come afferma l'Apostolo, l'uomo spirituale giudica tutte le cose, ma egli stesso non viene giudicato da nessuno. Questa autorità, infatti, benché conferita ad un uomo ed esercitata da un uomo, non è umana, ma piuttosto divina, attribuita per bocca di Dio a Pietro e resa intangibile per lui e per i suoi successori in colui che egli, la Pietra, aveva confessato, quando il Signore disse allo stesso Pietro, qualunque cosa tu legherai, eccetera. Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone all'ordine di Dio, a meno che non pretenda, come i manichei, che ci sono due principi, il che noi giudichiamo falso ed eretico, perché, come dice Mosè, non nei principi, ma nel principio, Dio creò il cielo e la terra. Per conseguenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo e affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al romano pontefice, data in laterano nell'ottavo anno del nostro pontificato.